È un classico ormai per la Proloco, con l'amministrazione comunale, con i commercianti, realizzare un grande Natale. Quest'anno l'Aronatale ha portato in città tante persone, tante iniziative, dalla pista di patinaggio che sarà aperta fino al 6 di gennaio. Abbiamo portato trampoglieri, la favola di Frozen per tutti i bambini, un concerto. Il nostro grande mercatino che è stato riconosciuto come uno dei mercatini più belli della regione. Quindi un grande Natale anche quest'anno. E nella chiesa di Santa Marta, lo ricordiamo, ci sono anche dei presepi molto molto belli che adesso vediamo nelle immagini. Sì, è un'iniziativa degli amici del Centro Storico, anche questo è Natale, ma penso che tutta Rona ha fatto un grande Natale come ormai è una tradizione di tutti gli anni.